Matteo, maledetta a te, maledetta, hai detto che in Germania faceva freddo, qua si muore di caldo, stanno le persone a prendere il sole, io mi sono messo il cappotto di mio nonno che mi va a largo, un po' come quello tuo, ho più sbagliato ad abbottonarlo, qua fa caldo fa, eh al nord, al nord, allora sei proprio meridionale, sì, vabbè fammi chiudere, che ora devo dire un po' di fatto che ho sto in collegamento, ciao bello, ciao. Cari amici, come vedete mi trovo a Berlino, in questa nazione, la Germania è fredda, fa proprio freddo qua, naturalmente c'è stato l'incontro tra Matteo e la Merkel che ha detto benissimo, a lei piace assai proprio, piace assai, ha detto che è bello questo ragazzo biondo, con gli occhi azzurri, aveva visto un altro, poi ha visto lui e le è piaciuto comunque, lui pure ha detto noi con la Germania dobbiamo essere amici, prenderemo pure a modello le vostre politiche di lavoro, infatti da domani in tutte le fabbriche si mangerà buster e crauti, gli impiegati pubblici tutti biondi si faranno, la festa dell'1 maggio diventerà la festa della vera, quindi io adesso me ne vado, anche perché, mo' devo vedere di cambiarmi un poco, Sabino ci cambiamo un poco, anche perché pure Matteo aveva questo cappotto un poco strano, che ne penso? Tieniti gli 80 euro e comprati un cappotto! Eh magari così ti presenti meglio la prossima volta!